Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo la glassa più bella che si può creare per una torta, la glassa a specchio Galassia. È un insieme di sfumature che ricorda la via lattea e conferirà alla vostra torta un bellissimo effetto wow, stupendo i vostri cari. Potrete portare a casa vostra un gioiello della pasticceria con pochi semplici passaggi. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in ammollo 14 g di gelatina per 10 minuti in acqua freddissima. In un pentolino mettiamo 110 ml di acqua, 225 g di zucchero semolato e 225 g di sciroppo di glucosio. Cuociamo a fuoco basso fino a raggiungimento della temperatura di 103 gradi. Arrivate alla temperatura prestabilita spegniamo il fuoco, mettiamo 150 ml di latte condensato e mescoliamo per bene. Poi spostiamo il pentolino, aggiungiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo finché si scioglierà completamente. Aggiungiamo 225 g di cioccolato bianco belga e mescoliamo fino a scioglierlo. Con un Bimi Pimer frulliamo per 2-3 minuti creando meno bolle d'aria possibile. Passiamo in un passino per eliminare eventuali residui. Dividiamo la glassa in quattro parti di peso diverso. La ciotola con il colore dominante deve essere quella con più glassa, nel nostro caso blu scuro. Nella seconda ciotola abbiamo scelto l'azzurro, nella terza l'indaco e nella quarta il rosa. La scelta dei colori è soggettiva. Divertitevi e sperimentate. Aggiungiamo i colori sovrapponendoli fra loro nella ciotola più grande. Ora appoggiamo una torta congelata su un oggetto rialzato e con dei movimenti circolari versiamo la glassa coprendo tutta la superficie della torta. La temperatura deve essere di 33 gradi, altrimenti la stesura non sarà omogenea. Bene amici il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.